Di nuovo buongiorno Friuli e bentornati in nostra compagnia dopo aver visto la partenza degli Alpini e di Udine non solo, verso Treviso raggiungeranno la sede della Donata Nazionale degli Alpini a piedi. Continuiamo la nostra diretta del mattino, continuiamo il nostro approfondimento che oggi sarà dedicato al soccorso alpino speleologico. In studio con noi abbiamo il vicepresidente della sezione del Friuli Venezia Giulia del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, Sergio Buricelli. Buongiorno e benvenuto in studio. Un saluto anche a Maurizio Ferrari che è rimasto con noi per darci tutte le ultime dal web. Sì, perché dopo aver visto le immagini degli Alpini pronti alla partenza e avuto ascoltato anche l'inno d'Italia, adesso siamo pronti anche a dare una sbirciata come sempre al mondo del web per le ultime notizie e magari anche un po' per qualche approfondimento proprio su questo tema. E vedere anche quello che accade al di là dei nostri confini. Questo però è il momento delle previsioni del tempo e allora colleghiamoci subito con Sergio Norgio dell'Osmer Arpa per sapere che tempo farà oggi. Buongiorno Sergio. Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Facci tutto, vediamo un po' di gocce, qualche fulmine sulla cartina delle Friuli Venezia Giulia. Cosa dobbiamo aspettarci per la giornata di oggi? Direi che vista la situazione c'è aria piuttosto fredda in quota, quindi ancora delle instabilità. In questo momento il cielo è in prevalenza nuvoloso, anche coperto sulla regione. Ci sono delle piogge sparse direi più verso la costa, contrariamente a quanto si pensava che era la zona dove doveva essere meno probabile la pioggia. Invece ci sono delle schiarite sulla zona montana, anche sulle prealpi, carniche e incarnia. Condizioni direi ancora di instabilità nella giornata di oggi, quindi questa alternanza fra delle schiarite che potrebbero essere anche ampie nel corso della giornata, ma poi nuovamente la formazione di nuvolosità e la possibilità di qualche locale pioggia, qualche locale rovescio. Le temperature sono piuttosto fresche in quota, quindi non è scuso neanche che possa arrivare qualche nevicata oltre i 1.400-1.500 metri, visto appunto la presenza di aria fredda in quota. Condizioni direi tutto sommato non molto diverse per la giornata di domani per quanto riguarda la nuvolosità. L'unica cosa è che domani probabilmente non pioverà, quindi abbiamo questo elemento positivo. Non ci saranno piogge, però rimarrà della nuvolosità presente, specialmente sull'alta pianura, sulla fascia prealpina. Maggiore variabilità nelle valli più interne della zona montana, quindi soprattutto verso l'Austria, verso le zone più settentrionali. Maggiore variabilità anche probabile sulla costa. Il tempo però tenderà a cambiare nuovamente nel corso della giornata di giovedì. Si avvicinano verso di noi di nuovo correnti umide da sud-sud-ovest in quota, scirocco nei bassi strati. Quindi molto probabilmente giovedì, soprattutto giovedì sera e nella notte tra giovedì e venerdì, avremo nuovamente delle piogge e dei rovesci su gran parte del territorio. Insomma, quindi rimane una settimana piuttosto instabile. Perfetto, grazie. Grazie allora Sergio Nordio per queste previsioni. Ci risentiamo nei prossimi giorni, ci risentiamo domani anche per tutti gli aggiornamenti. Grazie a Sergio Nordio. Buona giornata a tutti. Ciao. Chiudiamo allora questa parentesi dedicata alle previsioni del tempo e cominciamo il nostro approfondimento di oggi. Dicevamo prima che parleremo del soccorso alpino e speleologico perché c'è una novità, diciamo così, data dall'attualità, ovvero in Consiglio regionale oggi ci saranno le audizioni per quanto riguarda la proposta di legge in questa materia. Tra poco sentiremo anche il consigliere regionale, Renzo Liva, per avere le ultime novità su questa proposta di legge. Prima però io chiederei al vicepresidente della delegazione, giusto si chiama così, del servizio regionale, del soccorso alpino e speleologico, qualcosa sulla vostra organizzazione. Quanti siete? Chi siete? E così perché parliamo spesso di voi, riferendo nei nostri Tg, dei vostri interventi, dei vostri interventi di soccorso in montagna, ma non solo, ci dici qualcosa di più su questi volontari del soccorso alpino? Sì, il soccorso alpino è un'organizzazione nazionale, riconosciuta da leggi dello Stato, che nasce nel lontanissimo 1954 e che è organizzata a livello locale in servizi regionali. Ogni servizio regionale poi ha delle componenti che vengono chiamate delegazioni tecniche, ovviamente nelle regioni più vaste le delegazioni sono maggiori, sono in maggior numero. Nella nostra, essendo la regione piuttosto piccolina, c'è una delegazione alpina con circa 300 volontari tecnici, con vari profili, varie figure, vari ruoli, e una delegazione speleologica, che a loro volta sono suddivise in stazioni per competenza territoriale, nove sono quelle alpine e quattro quelle speleologiche. Le speleologiche praticamente si identificano con le quattro province, quelle alpine invece sono per omogeneità territoriale. Quanti siete? Noi siamo a 300 alpini, 300 delegazioni alpina, e 64, 65 speleologi. Maurizio, c'è qualche news dal web? Sì, stavamo sfogliando un po' anche quelle che sono le ultime ore, in particolare ci sono anche le notizie che riguardano la notte che è appena trascorsa in quella di Parigi, noi individuati i sospetti terroristi, segnalati dalla Gare du Nord, blitz delle forze speciali di sicurezza su un TGV proveniente da Valenciennes, dopo la segnalazione di un controllore. C'è stata qualche ora di paura nella serata di ieri, non ci sono ancora però notizie, i controlli delle forze speciali hanno dato esito negativo, intorno alle due di notte la stazione è stata riaperta regolarmente, però purtroppo la Francia continua a vivere momenti di grande, grande tensione, ormai c'è la riscontrare purtroppo quasi un caso ogni mattina di questo tipo, l'allerta è davvero molto molto alta in questo senso, ovviamente se ci saranno informazioni su questo tema saremo vigili durante il corso di questa mattinata insieme. Perfetto, stamattina i giornali avevano fatto solo un flash veloce proprio su questa allerta, quindi se ci saranno delle novità ve le daremo nel corso di questa nostra mattinata in diretta. Adesso siamo pronti per collegarci al telefono con Renzo Liva, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno al consigliere regionale Liva del Partito Democratico, il primo firmatario di questa proposta di legge che intende regolamentare un po' l'attività del soccorso alpino. La prima cosa che le chiedo è perché questa legge, cosa bisogna normare, cosa bisogna regolamentare? Ma questa legge intanto risponde credo a una richiesta che proviene dal soccorso alpino, dai suoi uomini e proviene dalla necessità di valorizzare un esempio così importante di volontariato e così prezioso per il soccorso soprattutto in montagna. E questa legge si propone di stabilizzare, di dare una sede a un'espressione così importante che finora viveva di convenzioni stipulate vuoi con la protezione civile, vuoi con l'ospedale, vuoi con l'azienda sanitaria. Con questa legge si inserisce questo organismo all'interno del servizio salute, della direzione salute e in particolare lo inseriamo all'interno del sistema di emergenza e ausenza sanitaria. È una collocazione naturale rispetto alle funzioni che svolge. C'è poi anche la questione, l'abbiamo letta sui quotidiani nelle scorse settimane, di un'ipotesi di mettere questo servizio di soccorso a pagamento. Qual è la situazione? Ce la spiega bene. Cosa prevede in particolare questa proposta di legge a proposito? Non è assolutamente di mettere il servizio a pagamento, ci mancherebbe. Noi soccorriamo e il soccorso alpino soccorre chi ha bisogno indipendentemente dal motivo per cui viene soccorso. Il soccorso è gratuito, è spontaneo, è generosità, è volontariato. Abbiamo messo semplicemente una norma che fa una distinzione sull'uso dell'elicottero e quando l'uso dell'elicottero è chiamato per un uso improprio e non sanitario ed è causato da vera e propria imperizia, allora stabiliamo, siccome l'elicottero costa molto, siccome il personale rischia la vita per soccorrere, abbiamo messo delle norme, abbiamo proposto di inserire dei tarifari, dei modelli anche di pagamento a carico di chi ricorre a soccorso alpino impropriamente sostanzialmente. Per il resto la sanità è una sanità pubblica, soccorriamo chi ha un incidente anche se correva troppo in macchina e soccorriamo necessariamente anche quello che magari in maniera un po' sproveduta si è arrampicato su per il bosco. Questo resta, il servizio è gratuito, ma ci sono delle norme che rendono almeno il servizio dell'elicottero che ha dei costi enormi e impone dei rischi, beh insomma responsabilizziamo chi ne fa richiesta. Oggi ci saranno una serie di audizioni in terza commissione, se non sbaglio, l'approvazione di questa proposta di legge per quando è prevista? Io mi auguro che entro il mese venga discussa e mi auguro approvata, spero con un ampio consenso, in commissione. Per essere portata in aula io mi auguro a fine mese o alla prima occasione utile di giugno. Grazie allora Renzo Oliva per queste informazioni, per averci fatto un po' il quadro della situazione. Buona giornata e buon lavoro anche a lei. Grazie. Dicevamo della stretta collaborazione che c'è fra il soccorso alpino e la sanità, l'elisoccorso in particolare e il nostro David Zanirato in questo momento si trova proprio nella sede, nella base dell'elisoccorso di Udine. Vediamo se siamo pronti per questo primo collegamento. va ancora un attimo e ecco vedo che stanno sistemando l'inquadratura, la linea, quindi passa a David Zanirato. A te David. Grazie Angela, buongiorno anche a te. Ci siamo trasferiti dunque qui al centro dell'elisoccorso all'ospedale di Udine. Accanto a me c'è Vladimiro Todesco che è il presidente del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico per il Friuli Venezia Giulia. Perché siamo qui? Perché il soccorso alpino assieme all'elisoccorso al 118 svolge un ruolo determinante nelle emergenze. Sì certo, abbiamo i nostri tecnici che turnano 365 giorni all'anno e sono in supporto dell'equipe medica su tutti i terreni impervi della nostra regione. Per svolgere questo ruolo ci vuole una competenza ben precisa a frutto di una altissima formazione. Sì, i nostri tecnici seguono un ite formativo molto intenso partendo proprio dalle basi, dall'alpinismo più si va avanti e più si raggiungono certi obiettivi che sono dettati da delle regole che sono supportate dalla scuola nazionale quindi c'è uno standard qualitativo unico in tutta la nazione. Abbiamo visto in tante immagini quando intervenite con l'elicottero ci sono operazioni cosiddette di hovering davvero spettacolari non si può sbagliare nulla, tutto è studiato al millimetro. Sì, questo è frutto di moltissimi anni di esperienza e di lavoro con questi mezzi, con gli aeromobili perché siamo partiti all'epoca con i militari quindi con gli anni poi sono arrivati gli elicotteri civili con delle tecniche ormai acquisite con molti anni di esperienza e quindi con dei corsi di formazione specifici proprio per usare questi velivoli. Quanti siete all'interno del Kinsas e del Friuli Venezia Giulia adibiti a questo ruolo? Siamo attualmente 25 tecnici dell'Iso Corso che turnano qui quotidianamente che si succedono in base alla disponibilità di tempo. Grazie a Vladimiro Todesco, a te la linea Angela tra poco avremo altri ospiti continueremo a raccontare anche le altre specificità del soccorso alpino. Grazie a David Zanirato per questo collegamento c'è da sottolineare una cosa importante che tutti voi siete dei volontari dei volontari che però hanno delle competenze professionali specifiche importanti ci sono anche dei medici abbiamo sentito che il tecnico dell'Iso Corso ovviamente deve fare un percorso di formazione molto importante e questo è un valore aggiunto davvero di rilievo per il soccorso alpino perché ci sono delle persone che hanno delle professionalità che mettono a servizio appunto del soccorso non siete tra virgolette con tutto il rispetto per tutti i volontari che sono attivi in tantissimi settori e sono importantissimi non siete dei semplici volontari siete dei volontari formati dei volontari che hanno una professionalità alle spalle sì ci sono due aspetti uno è il fatto che la legge dello Stato in particolare la 64 del 2001 riconosca delle figure professionali specialistiche e tra queste appunto come diceva il collega Vladimir Todesco c'è il tecnico dell'Iso Corso e poi ci sono anche altri che sono quindi figure riconosciute per legge come professionisti nel momento in cui svolgono questo ruolo che è una specialità riconosciuta dallo Stato e poi come giustamente dicevi tu Angela quello che noi come individui insomma come persone possiamo mettere a disposizione di un'organizzazione di volontariato nella fattispecie appunto la nostra professione molti di noi nella vita di tutti i giorni svolgono professioni legate all'ambiente della montagna penso alle guide alpine previsori valanghe per poi ovviamente un aspetto che ci riguarda più da vicino oggi la componente sanitaria insomma abbiamo molti sanitari medici, infermieri che afferiscono anche all'area di emergenza e quindi avere queste professionalità all'interno sicuramente può portare un valore aggiunto soprattutto nei casi in cui l'elisoccorso non possa intervenire quindi nottetempo piuttosto che con condizioni meteo avverse insomma quindi noi per legge siamo deputati la legge proprio riconosce nel soccorso alpino il soggetto di riferimento esclusivo per il soccorso in ambiente impervio soccorso sanitario il fatto che chi arriva magari anche dopo ore di percorso a soccorrere una persona e sia in grado anche di prestargli le cure diciamo così sanitarie che servono in quel momento è sicuramente importante Maurizio Sì, vogliamo far vedere, far capire anche quello che è il lavoro puntuale e soprattutto importante del soccorso alpino quelli che sono i dati abbiamo una statistica che va dall'83 al 2015 direi che il grafico spiega meglio di tante parole quello che è anche l'aumento di richiesta di questo tipo di interventi che è partito da una soglia che era inferiore ai 50 interventi e che nell'anno 2015 l'ultimo di riferimento di questa statistica ha portato a 241 interventi con 290 persone soccorse e circa 1.662 persone impegnate con 127 elicotteri 110 feriti purtroppo anche 28 morti ma insomma la statistica è importante per far capire quello che è anche il peso dell'importanza del soccorso alpino e anche l'aumento di richiesta che c'è in questo senso Sergio, volevi fare qualche precisazione? Sì, vorrei far notare che l'intervento dell'elicottero incide per il 10% negli interventi di soccorso questo dimostra quanto sia importante la preparazione fisica l'impegno del volontario che deve intervenire a prescindere con o senza elicottero e questo lo facciamo con le proprie gambe lo facciamo nella maggior parte dei casi ovviamente quindi noi siamo preparati a intervenire ovviamente anche senza elicottero l'abbiamo fatto per tanti anni e continueremo a farlo Tra l'altro proprio in un vostro intervento recente in Abruzzo sicuramente tutti ricorderanno il caso della valanga che ha travolto l'hotel se non sbaglio proprio il soccorso alpino e speleologico è arrivato per primo con le proprie gambe con gli sci ai piedi sul luogo della tragedia quindi anche questo è un fatto che conferma Certo, i colleghi del soccorso alpino abruzzese sono stati i primi a raggiungere l'hotel da Rigopiano durante la notte con gli sci, l'alpinismo con le pelli di foca E ce l'hanno fatta Per quanto riguarda i dati Sergio, hai qualche dato aggiornato sul 2016? Abbiamo visto le statistiche del 2015 avete già fatto anche un bilancio dell'attività 2016? Sì, ancora non è ancora ovviamente definitivo sinceramente i numeri precisi non li conosco però siamo in linea con gli anni in linea il leggero caldo sono una tendenza in proporzione a un calo però ovviamente la fa da padrona tra virgolette l'estate l'estate che in genere incide maggiormente anche se purtroppo quest'inverno siamo stati già coinvolti in interventi piuttosto gravi anche con esito letale in alcuni casi con esito mortale infatti tra poco ritorneremo dal nostro Davide Zanirato adesso ci fermiamo per un attimo perché è già il momento della pubblicità tra poco eccoci di nuovo assieme per quest'ultima parte di Buongiorno Friuli oggi come avete visto dedichiamo il nostro approfondimento all'attività del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico in studio con noi abbiamo il Vice Presidente del Servizio Regionale Sergio Buricelli c'è anche il nostro Maurizio Ferrari in esterna invece Davide Zanirato che vedo già in compagnia di un altro ospite quindi subito la linea alla nostra truppa esterna grazie Angela ci ha raggiunto Gabriele Simeoni anche lui fa parte del Soccorso Alpino ed è un addetto cinofilo una specializzazione all'interno del Soccorso Alpino che è sempre più importante vero? Sì beh assolutamente in regione siamo in 10 cinofili 12 unità cinofile come cani di cui 3 in formazione e 6 unità cinofile bivalenti che significa che fanno sia valanga quindi ricerca in valanga che ricerca in superficie poi abbiamo delle unità cinofile operative solo in superficie e infine un'unità cinofile da ricerca molecolare e diciamo che ogni unità ha le sue specificità in generale si punta a una formazione di appunto bivalenza quindi valanga e superficie in modo da poter anche turnare in elibase a tolmezzo con i cani nel periodo invernale e quindi prestare il servizio in caso di intervento in valanga e poi l'operatività in superficie per la ricerca dei dispersi in ambiente impervio infatti i cinofili e le unità cinofile del soccorso alpino sono quelle addestrate ad intervenire nel caso di persone disperse in ambiente ostile spieghiamo bene la differenza tra i vari cani che addestrate e che cosa riescono a rintracciare per esempio ci sono i cani molecolari ma non solo sì allora assolutamente i cani molecolari sono molto interessanti diciamo dal punto di vista cinofilo in quanto lavorano in mega olfatto questo significa che vanno a ricercare una traccia d'odore specifica sono i segugi in regione abbiamo un blowdown un segugio di Sant'Uberto appartenente alla stazione di Maniago con la conduttrice Colledani il quale riesce a cercare una persona lo specifico odore della persona annusando un reperto che il conduttore ricerca all'inizio dell'intervento e dopodiché seguendo la traccia che la persona lascia anche tracce di diverse giorni riesce ad arrivare sul target specifico la specificità di questi cani che riescono a discriminare fra tracce diverse quindi anche nel caso che ci siano tre persone nello stesso punto il cane segnalerà la persona a cui appartiene l'odore i cani invece come il mio da ricerca in superficie agiscono di più in teleolfatto quindi cercano un cono d'odore alzando il naso verso l'aria è tipico e vanno a cercare l'odore fuori contesto quindi in un bosco immaginiamoci una persona isolata segnaleranno quello la stessa cosa fanno in valanga quando il cane gratta sulla neve gratta perché sente sotto la neve un odore che è fuori dal contesto e quindi sono addestrati in questo modo sappiamo infatti nel caso appunto delle valanghe la tempestività è la priorità esatto è proprio per questo che il servizio regionale del Friuli Venezia Giulia come soccorso alpino turna nelle libasi di Tolmezzo per essere più tempestivo e anche diciamo centrale per quanto riguarda l'arco alpino friulano per tutti i cani è importante ricordare comunque che questo rimane un gioco cioè noi parliamo di lavoro che comunque è volontaristico ma per i cani tutto l'addestramento e anche la vera operatività all'andare nell'intervento per loro rimane sempre un gioco e come tale deve essere Gabriele lo spieghiamo è anche un operatore sanitario all'interno del soccorso alpino perché da diverso tempo si è voluto inserire anche questa ulteriore specificità che serve naturalmente in caso di emergenza e soprattutto la notte avere anche competenze sanitarie oltre a quelle appunto di soccorso alpino aiuta a soccorrere tempestivamente il ferito e dargli una prima assistenza esatto io sono un medico all'interno del soccorso alpino diciamo che queste figure sanitarie sono fondamentali c'è anche una legge dello Stato la 74 del 2001 che riconosce il soccorso alpino come l'unico ente in grado e a cui spetta di portare soccorso sanitario altamente specializzato in ambiente impervio anche la croce che abbiamo sul nostro stemma vuole ricordare questo che il nostro compito è quello proprio di portare un soccorso sanitario avanzato anche in ambiente impervio da quest'anno inoltre sono entrate queste figure tecnico sanitarie che sono figure che lavorano anche in elibase o in ambulanze quindi tutte persone che derivano dall'area dell'emergenza della medicina che affiancano i tecnici del soccorso alpino in caso di interventi notturni con la pioggia insomma in qualsiasi circostanza in cui l'elicottero non riesca a volare perché ricordiamolo che in ambiente impervio l'elicottero ci dà una grossa mano ma nel momento in cui questo non riesce a decollare e quindi ad arrivare sul target i tempi si dilatano enormemente e portare a casa il ferito è la cosa più importante per noi grazie grazie a Gabriele se ci sono domande dallo studio Davide io approfitterei del tuo ospite per spiegare un po' anche la figura del tecnico dell'elisoccorso che è sempre presente in base che ha il compito diciamo così di fare in modo che i sanitari possano arrivare sul luogo in cui c'è il ferito da soccorrere una presenza H24 nella sede dell'elisoccorso Sì infatti ci ricordavano dallo studio l'importanza negli interventi dell'elisoccorso dei tecnici del soccorso alpino presenti qui H24 che permettono allo stesso medico di arrivare sul posto e essere subito operativo Beh sì i tecnici di elisoccorso sono gli addetti alla sicurezza del personale sanitario all'interno del veivolo quindi sono quelli che nel momento in cui il personale sanitario medico e infermiere vengono sbarcati a terra in mancanza anche di una squadra di terra del soccorso alpino che possa aiutarli a movimentarsi giudicano e guidano il medico e l'infermiere in sicurezza verso il ferito poi chiaramente il medico e l'infermiere dell'elisoccorso gestiranno la parte sanitaria ma comunque il tecnico di elisoccorso che noi chiamiamo TE è quello che deve mettere una corda se serve o comunque gestire tutta la sicurezza dell'intervento a terra quindi sbarcato e staccato dal vericello dal veivolo quindi sicuramente tra poco avremo anche il dottor Trillo e a lui chiederemo anche ulteriori spiegazioni su questa sinergia tra questi due corpi indispensabili in operazioni di emergenza a te Angela grazie grazie a Davide vado subito da Maurizio Ferrari per qualche notizia dal web sì notizia dal web e anche approfondimento sul tema che è ovviamente molto molto caldo partiamo dalle notizie ti leggo questa news che è puntata nel corso della mattinata su tutti i principali siti riciclaggio c'è un'operazione che ha visto piazzare i sigilli a un ristorante VIP nel cuore di Roma con sei arresti ed è un locale che tra l'altro è frequentato anche da calciatori e uomini di spettacolo noto ristorante Assunta Madre nel cuore di Roma e dunque in esecuzione il decreto di sequestro preventivo anche di numerosi beni si parla di intestazione fittizia riciclaggio e anti-riciclaggio di denaro di provenienza illecita poi ancora sono giorni importanti perché c'è la visita di Obama a Milano arrivato ieri da Linate con un corteo di 14 auto ospite d'onore di questo hashtag Seeds and Chips che è semplicemente la Global Food Innovation Summit che si sta tenendo proprio in questi giorni a Milano e sarà il keynote speaker l'ospite ovviamente di grande rilievo abbiamo parlato anche di situazioni che riguardano il pronto intervento e da registrare per quello che riguarda un evento naturale il terremoto del magnitudo 6 a Okinawa nel sud del paese in Giappone tornando invece adesso qui torniamo a parlare di quello che è l'argomento di questa mattina dopo questa raffica di notizie abbiamo parlato prima anche degli interventi che sono stati fatti anche al di fuori della nostra regione prima abbiamo parlato dell'intervento per portare soccorso in Abruzzo e ci sono diversi scatti di quello che è stato l'intervento proprio del colpo del Friuli Venezia Giulia nel corso di questo grave incidente che ha visto protagonista l'hotel Rigopiano ma anche un evento più recente il soccorso alpino del Friuli Venezia Giulia in azione a Como notizia che leggiamo dalle colonne del Friuli dove tre tecnici sanitari del soccorso speleologico sono stati chiamati per prendere parte ad un soccorso nella grotta dell'Alpe Madrona con ovviamente scatti di quella che è stata questa situazione con un uomo che era rimasto in difficoltà per aver subito un trauma al braccio e il pronto intervento del corpo del Friuli Venezia Giulia anche all'esterno al di fuori della nostra regione la regia tempestivamente aveva già messo in onda le immagini che si riferiscono a un altro importante intervento che avete realizzato in Baviera qualche anno fa Sergio un intervento che ha messo in luce la bravura della sezione speleologica del soccorso alpino regionale ci racconti qualcosa perché è un intervento che davvero si merita un riconoscimento per la bravura dei nostri speleologi gli stessi sanitari che sono intervenuti a Como adesso leggevo il testo sono due dei 27 che sono intervenuti nel 2014 in Baviera uno degli interventi più gravi e complessi della storia della speleologia insomma degli ultimi anni ecco raccontaci c'era un ferito ad una profondità molto importante di mille metri era a mille metri sotto in grotta stava risalendo era una grotta che aveva esplorato lui tra l'altro uno speleologo preparato insomma molto bravo perché per muoversi in quei terreni comunque richiesta una preparazione di altissimo livello si pensi che in regione noi abbiamo all'interno della nostra delegazione speleologica tra i 60 speleo della delegazione speleologica ce ne sono 20 che sono fra i pochi tra i pochissimi in Italia e pochi al mondo che riescono a raggiungere profondità di meno mille e operare a quelle profondità e ribadiamo un concetto già espresso più volte ormai stamane a portare il soccorso sanitario in quel tipo di ambiente che è ancora più complicato rispetto a quello alpino dove si può intervenire esternamente insomma con elicottero la difficoltà a scendere così in profondità è una difficoltà fisica proprio cioè ci vuole del tempo ci vuole della forza per andare così in profondità certo difficoltà fisica tecnica perché ci sono comunque dei cunicoli che richiedono una grandissima preparazione fisica e tecnica proprio a livello di utilizzo di materiale tecnico e ovviamente un sanitario che scende a quelle profondità deve essere prima di tutto un ottimo speleologo che è in grado di raggiungere quelle profondità in particolare in quell'occasione l'intervento era partito diciamo gestito dai tedeschi che insomma non avevano voluto fidarsi molto degli italiani che sono stati chiamati allertati la sera in cui il compagno del ferito è uscito dopo 14 ore di risalita solitaria ecco anche questo è un particolare importante la persona che stava facendo l'escursione con la persona che è rimasta ferita ci ha impiegato 14 ore per uscire e risalire in superficie e chiamare i soccorsi tedeschi i quali hanno allertato altri soccorsi speleologi europei però attivando gli italiani solo nella serata di lunedì quindi 24 ore dopo i nostri colleghi sono arrivati al mattino del martedì e diciamo che fin da subito insomma hanno dimostrato di avere delle capacità sopra la media sopra gli altri nel momento prendendo in mano il coordinamento delle operazioni e dopo 12 giorni di operazioni sono riusciti a portare all'esterno il ferito quindi l'intervento è finito il giovedì della settimana successiva 27 nostri tecnici che sono insomma ovviamente non solo il fiorocchiello del servizio regionale questo è un motivo d'orgoglio per noi ma proprio del soccorso italiano insomma l'Italia nel nostro caso sicuramente un elemento fondamentale è il fatto che qui in Friuli tra il Carso e il Canin ci sono le grotte alcune fra le grotte più importanti al mondo insomma anche più più impegnative quindi la palestra sì la palestra è sulla porta di casa c'è la possibilità di esercitarsi quotidianamente appunto per mettere per verificare le proprie capacità le proprie abilità tra l'altro la conoscenza del territorio è un altro degli elementi di forza di voi volontari perché conoscendo bene il territorio in cui operate il territorio dove molto spesso siete nati siete cresciuti avete vissuto in questi anni sapete esattamente come bisogna fare dove bisogna andare qual è la strada più veloce per raggiungere la persona che ha bisogno di un soccorso quindi anche questo legame stretto questa conoscenza stretta con il territorio è un altro aspetto da sottolineare un altro valore aggiunto certo questo è uno degli elementi più qualificanti insomma che non sta scritto in nessuna legge che però insomma rappresenta credo quel quid di quel valore aggiunto che ci permette di operare poi sul territorio che viviamo ogni giorno che conosciamo come le nostre tasche nel quale fin da bambini abbiamo iniziato a muoversi quindi come dicevano giustamente i colleghi presenti nel soccorso noi siamo prima di tutto degli alpinisti o degli speleologi che conoscono molto bene la montagna e la vivono quotidianamente insomma qualcuno addirittura anche per lavoro e quindi questo è un elemento ancora si più che aggiunge qualità qualità e valore al servizio ritorniamo da David Zanirato a voi la linea David grazie Angela abbiamo raggiunto il dottor Giulio Triloc che è il responsabile della centrale operativa dell'elisoccorso qui a Udine e possiamo vedere da vicino grazie al nostro Fabio Di Bernardo l'uccellone giallo questo velivolo indispensabile negli interventi in regione si gli scopi dell'elisoccorso sono conosciuti l'elisoccorso è un mezzo veloce che deve portare l'ospedale con le sue professionalità più elevate sul luogo dell'evento chiaramente il mezzo costa però offre delle prerogative che nessun altro mezzo ha nello specifico stiamo parlando di soccorso alpino può portare un'equipa avanzata anche in montagna e qui nasce la sinergia con il soccorso alpino la sinergia perché chi va in montagna ci sa andare ma non tutto il personale sanitario è il personale che va in montagna e quindi lo scopo del soccorso alpino è quello di portarci in sicurezza sul luogo dell'evento e di farci operare in sicurezza sul luogo dell'evento il che significa che noi abbiamo sempre a bordo quando andiamo in ambiente ostile come lo chiamiamo noi un TE un tecnico di elisoccorso che è un volontario del soccorso alpino addestrato specificatamente il cui scopo è oltre a collaborare al soccorso del o degli infortunati anche quello di garantire che l'equip quindi medico di infermiere possono operare in sicurezza sul paziente per fare questo l'azienda sanitaria universitaria integrata di Udine ha stipulato una convenzione con il corpo nazionale del soccorso alpino speriologico una convenzione che garantisce un ristorno delle spese perché il personale che interviene i tecnici del soccorso alpino sono tutti volontari e ricordiamocene sempre ma chiaramente vanno incontro a una serie di spese che è giusto che vengano in qualche maniera ristornate è uno strumento amministrativo importantissimo che ci garantisce la presenza tutto l'anno di un tecnico del soccorso qui in base vicino all'elicottero pronto a partire e che si è rivolata fondamentale in moltissime circostanze spieghiamo anche le caratteristiche di questo velivolo soprattutto il vericello che è quello che permette di sbarcare in hovering sono due termini diversi l'elicottero come sta riprendendo adesso Fabio è dotato di vericello ci sono tre modi per scendere da questo elicottero quando si arriva sul luogo di un evento con i pattini a terra e come in questo caso ci si posa e si scende abbastanza tranquillamente la seconda tecnica è l'overing come hai detto giustamente tu è una tecnica con la quale i pattini sono a terra o poco distanti da terra comunque c'è un rischio coinvolto in questo caso il tecnico del soccorso ci aiuta a scendere e si assicura appunto che non accada niente la terza tecnica che è quella più complessa comprende l'uso del vericello che in questa versione ha 90 metri di cavo d'acciaio con la quale si possono raggiungere zone molto specifiche molto particolari per esempio crepacci canaloni anche e in quel caso ovviamente la tecnica comprende una sinergia con il soccorso alpino dove ovviamente se a bordo dell'elicottero chi comanda è il comandante pilota in montagna chi decide è il tecnico di elisoccorso che dice scendo prima io scendiamo assieme o può anche dire tu non scendi perché si rende conto che le capacità dell'equip potrebbero non essere adeguate per certe situazioni per poter avere l'elicottero con i vericelli è necessario che l'elicottero abbia due motori quindi due turbine e questo è l'unico elicottero in regione che ha queste caratteristiche a livello italiano il nostro sistema integrato di soccorso alpino è 118 come si posiziona può insegnare molto a tanti anche perché in diverse missioni siete stati chiamati in supporto il sistema è abbastanza comune nel senso le regioni che presentano montagne hanno la presenza del soccorritore alpino a bordo è un sistema fondamentale siamo andati a suo tempo a fare un supporto nel terremoto in centro Italia ma era una situazione diversa sicuramente gli amici del soccorso alpino sono andati con le loro capacità e avete appena parlato di cinofili a portare la loro esperienza credo sia una sinergia estremamente pagante anche se la nostra regione è un po' anomala nel senso noi abbiamo situazioni penso alla Valle d'Aosta Piemonte anche Pieve di Cadore dove la maggior parte degli interventi alla fine sono sostanzialmente in montagna la nostra è una regione che non ha montagne altissime ma deve con un solo elicottero garantire tutti gli interventi dalle Alpi non alle Piramide ma alle spiagge di Lignano e Grado e quindi dobbiamo essere in grado di riconfigurarci a seconda del tipo di obiettivo che abbiamo Un'ultima battuta dottor Trillo anche per dare una cifra quanti interventi mediamente effettuate da qui dal centro dell'alli soccorso di Unì Chiaramente sono variabili diciamo che ci attestiamo in circa 800 missioni all'anno due e mezzo al giorno di cui 10% sono voli secondari quindi andiamo a prendere pazienti in altri ospedali e li portiamo in ospedali più qualificati i famosi ospedali Hub un 20% di missioni sono missioni che coinvolgono la presenza del soccorritore alpino a bordo e non pensiamo solo alla montagna pensiamo anche a qualsiasi cosa che possa configurare la necessità di sbarcare con il varicello e il restante 70% di missioni sono le missioni di soccorso tradizionali con la possibilità di atterrare vicino o non distante al luogo dell'evento grazie grazie al dottor Giulio Trilò a tutti i suoi collaboratori il nostro grazie naturalmente per quanto quotidianamente portano avanti dal centro dell'alli soccorso di Udine è tutto ringraziamo anche i nostri ospiti del soccorso alpino che ci hanno preceduto grazie a Fabio Di Bernardo a te Angela grazie allora Davide Zanirato per quest'ultimo intervento dalla centrale dell'alli soccorso noi siamo in chiusura Sergio prima hai detto che l'estate è il momento in cui statistiche alla mano il vostro lavoro è più è più richiesto i vostri interventi sono sono più richiesti di solito noi chiediamo quali sono i consigli le regole da seguire quando si va in montagna per non rischiare però so che a te in particolare non piace molto questa domanda perché la montagna è comunque un ambiente bello da vivere è un ambiente in cui si sta bene ci sono delle regole sì da seguire però è brutto fare un decalogo perché si pongono dei limiti diciamo così meglio investire sulla sicurezza sulla cultura della sicurezza infatti sì le regole da seguire sono quelle della natura e credo che non sia corretto imporre dei divieti dove ci sono non hanno mai dato grandi risultati quindi l'impegno del CAI prima di tutto perché ricordiamo che noi siamo una sezione nazionale del CAI e quindi anche del soccorso alpino è quello di puntare prima di tutto alla prevenzione all'informazione alla divulgazione fatto stesso che ci abbia dato la possibilità di essere qui è un'occasione di farci conoscere di dare più che dei consigli di spiegare come funziona la macchina la macchina organizzativa sapere quali sono anche i problemi che può comportare l'intervento del soccorso alpino nel suo complesso inteso come sistema di soccorso faccio un piccolo esempio insomma su qualcosa che potrebbe aiutarci anche nel caso in cui ci sia per esempio una ricerca di una persona dispersa fermo restando ovviamente la libertà di ognuno di andare come meglio crede in montagna anche da solo sapere dove uno va insomma che sentiero vuole percorrere potrebbe essere già un grande aiuto per le squadre perché partire senza sapere dove andare magari la ricerca di un'auto che poi si trova in un parcheggio da cui partono 20 sentieri come normalmente può capitare anche in regione insomma diventa veramente un problema quindi almeno dare delle indicazioni sui percorsi prescelti oppure adesso notizia di questi tempi insomma ci sono delle applicazioni molto semplici facilmente scaricabili sui nostri telefonini che permettono la geolocalizzazione una in particolare Geo Rescue che è stata prodotta dal Soccorso Alpino permette a una centrale operativa di individuare la persona nell'ambiente montano quindi questo sicuramente è un consiglio che noi diamo così come il tesseramento alle varie in primis ovviamente al CAI che tutela l'escursionista in qualunque parte del mondo vada anche a fronte per esempio di pagamenti con partecipazione alle spese o altre associazioni come Don't Meet Emergency o l'Aiuto Alpin insomma che sono delle onlus che permettono che offrono degli strumenti di tutela dal punto di vista organizzativo sì assicurativo e che danno appunto anche una mano soprattutto nel caso dell'applicazione a individuare il luogo esatto in cui si trova la persona che ha bisogno di un aiuto che ha bisogno di essere soccorsa noi siamo in chiusura Maurizio se non ci sono aggiornamenti di rilievo nessun aggiornamento particolare rinvio ovviamente l'appuntamento con lo sport alle 15.30 per la ripresa dell'Aiuti dell'Udinese per quello che riguarda il nostro ambito sportivo perfetto che seguiremo in diretta quindi appuntamento alle 15.30 adesso è il tempo dei saluti quindi io ringrazio Sergio Buricelli vicepresidente del servizio regionale del corpo nazionale del soccorso alpino speleologico grazie per essere stato con noi e buon lavoro buona giornata grazie Angela grazie a voi anche a te ringrazio anche in regia Francesco Zilli e Emanuele Sergi ringrazio tutti voi che ci avete seguito anche questa mattina vi rinnovo l'appuntamento per domani alle 7 come ogni giorno per la nostra rassegna stampa e per salutarci io direi di vederci assieme questo video queste belle immagini che ci raccontano con appunto le immagini e la musica l'attività del soccorso alpino e speleologico un saluto a tutti grazie 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 a tutti